Grazie a tutti. Mortale questa mattina sul ponte San Pio che collega San Pasquale a Iapigia, investito da un'auto un anziano di 86 anni che stava attraversando il ponte in sella ad una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente e il sindaco Antonio De Caro, bloccata per ore la circolazione sul cavalcavia della carreggiata verso Iapigia, sul luogo anche i familiari della vittima distrutti dal dolore. Il servizio di telecardiologia del Policlinico di Bari compie un mese e i dati forniti dal direttore generale Vitangelo Dattoli sono confortanti e quasi da record rispetto alla media nazionale, ma c'è ancora da lavorare a partire dalla formazione dei medici e del personale. Fatto sta che il passaggio dall'analogico al digitale era strettamente necessario. Parola di Michele Emiliano, il servizio. 11.000 case in tutta la Puglia affrontati in una media di 7 minuti e mezzo dalla tricotomia alla refertazione. Tra tante polemiche il servizio di telecardiologia del Policlinico compie un mese, una soluzione tecnologicamente voluta che permette agli operatori e medici del 118 di lavorare a stretto contatto in situazioni di emergenza con un team di specialisti in cardiologia d'urgenza. Il tracciato dell'elettrocardiogramma tramite la piattaforma ELIS viene visto in tempo reale dal medico della centrale operativa e inviato al cardiologo che nel giro di 7 minuti invia il referto. Il passaggio dal sistema analogico a quello digitale è avvenuto dal 1 ottobre non senza qualche dubbio, a partire dalla formazione dei medici del 118 a cui spetta la prima immediata diagnosi. A loro si stanno aggiungendo 6 dirigenti medici cardiologi, il 50% dei quali è già attivo nel reparto del Policlinico di Bari. Il primo è già all'opera, il secondo arriverà il 1 gennaio. Il sistema, dati alla mano, ha ridotto i tempi di intervento in Puglia addirittura sotto la media nazionale di 10 minuti, nonché il margine di errore permettendo di eseguire un'angioplastica entro i 60 minuti. Per non parlare della spending review, tra costi del personale e quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, la spesa complessiva per il servizio di telecardiologia è di 600.000 euro, praticamente un terzo dell'importo precedente. Ma nonostante i dati disegnino una realtà positiva, tutto fa pensare che l'attenzione sull'unità operativa non calerà. Un servizio nuovo, ma un servizio che ha bisogno ovviamente di alcuni miglioramenti, a partire anche dalla formazione specifica dei medici. La formazione dei medici del 118 è come formare le truppe d'assalto, perché loro sono fuori e non sanno mai quello che hanno di fronte, nel senso che ci può essere un caso di malore, ci può essere un incidente, ci può essere una persona che è rimasta incastrata in un posto o in un auto o in un qualunque altro posto, un principio di congelamento. I nostri telespettatori e cittadini si devono rendere conto che chi è su un'ambulanza non sa mai quello che gli può capitare, è un mestiere molto particolare. Avere il supporto di un meccanismo che documenti tutta la propria attività, anche a fine di garantire il medico, oltre che il paziente, è enormemente importante, tant'è che questo programma ha una piattaforma che consentirà di implementare anche altri servizi di telemedicina e di gestirli con le stesse garanzie e con la stessa efficienza. Torniamo alla cronaca. Arrestati dalla polizia, tre della banda dei serapinatori che il 30 dicembre dell'anno scorso assaltarono la sala bingo ambassador in via Omodeo a Bari. In manette sono finiti Giuseppe Ranieri di 29 anni, Gaetano Vulpo di 23 e Gianni Zingaro di 25, tutti pregiudicati. In quattro fecero irruzione nella sala giochi all'alba, all'ora di chiusura del locale. Minacciarono il direttore, si fecero consegnare 19 mila euro custoditi in una cassaforte. Furono gli agenti delle volanti, allertati da una testimone che aveva visto alcuni uomini incappucciati uscire dalla sala ad intervenire tempestivamente e acquisire elementi utili alle indagini supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La polizia è sulle tracce degli altri tre complici. E torniamo a parlare del Capodanno in piazza dopo le polemiche che in queste ore hanno inondato Sindaco e Giunta per la presenza il 31 dicembre di Gigi D'Alessio a Bari spunta un nuovo nome, quello di Gianni Morandi. Ci dice tutto Serena Russo. Sarà Gianni Morandi il secondo artista di fama nazionale che il 31 dicembre calcherà il palco barese per la festa di Capodanno. L'idea dell'amministrazione comunale è di svelare con il contagocce i nomi degli artisti che accompagneranno Gigi D'Alessio. Un nome alla settimana fino a fine anno, ha spiegato questa mattina l'assessore alla cultura Silvio Maselli, che risponde a muso duro alle polemiche che nelle ultime 24 ore hanno letteralmente inondato Sindaco e Giunta per l'arrivo del cantante neomelodico napoletano a Bari. Ovunque io vada in Italia è sempre così. È stato proprio Gigi D'Alessio con queste parole a tranquillizzare telefonicamente stamani l'assessore Maselli. «Offriremo uno spettacolo talmente bello e trasversale che tutti dovranno ricredersi. Sarà grandioso», ha continuato il cantante. I Friends, di cui Morandi fa parte, sono pensati e calibrati per soddisfare sia le diverse esigenze musicali che le aspettative di share di un canale nazionale. E chissà che il nome di Morandi non metta d'accordo almeno parte di quei baresi che scontenti della scelta già pensavano di trascorrere il Capodanno fuori città. Centinaia e centinaia i commenti che ieri sulle pagine Facebook di De Caro e Maselli in particolare hanno letteralmente bocciato, anche in malo modo, il programma per il 31 dicembre. E intanto, oltre al nome di Morandi, ce ne sarebbe già un altro che potrebbe riconciliare i baresi con l'amministrazione comunale, quello di Checco Zalone. Nel giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate, la Presidente della Camera Laura Boldrini in rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella presiderà domani la solenne cerimonia in onore dei caduti presso il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari, che avrà inizio alle 10.20. Il Sacrario raccoglie resti mortali di oltre 75.000 soldati, marinai ed aviatori caduti nei due conflitti mondiali. La Boldrini, inoltre, sarà ricevuta dal sottosegretario Massimo Cassano. Michele Caradonna, consigliere comunale, ufficializza in conferenza stampa il proprio passaggio con Italia dei Valori. Alla presenza del segretario nazionale di V, Ignazio Messina, il consigliere stamani all'Hotel Palace ha annunciato che presto verrà convocato un congresso cittadino. Primo step, trovare una nuova sede. Michele Caradonna rimane comunque nel gruppo misto, non essendo stato eletto nessuno in quota IDV durante le ultime amministrative, non sarà per lui possibile formare un nuovo gruppo. Carriere, lampo e contratti di locazione che impegnano pesantemente l'amministrazione comunale sotto la lente di ingrandimento del consigliere di Forza Italia, Michele Piccaro, gli ultimi provvedimenti della Bari Multiservizi. Il servizio. Contratto a tempo determinato, poi indeterminato e infine ciliegina sulla torta, anche una promozione. Sono le carriere lampo della Bari Multiservizi, circa una dozzina, su cui Michele Piccaro, consigliere comunale di Forza Italia, vuole vederci chiaro. I rumors si ricorrevano già da un po', ma adesso a parlare sono i verbali degli ultimi CDA. Piccaro non è il solo a sollevare un problema di opportunità, visto il conseguente aggravio dei costi che tra stipendi gonfiati e contributi incide pesantemente sul bilancio aziendale. A far storcere il naso anche ad una componente del consiglio di amministrazione della partecipata, il cui intervento è trascritto nero su bianco nei verbali, il fatto è che a prendere decisioni del genere fosse un CDA in scadenza. Più soldi a carico della civica amministrazione e promozioni per alcuni dipendenti che sono venuti stile Ben Johnson, in maniera veramente folgorante, sono riusciti a fare carriera a differenza di tanti altri lavoratori della Multiservizi che ad oggi non hanno avuto il relativo riconoscimento. Ma qualcosa che non va a Piccaro la riscontra anche nel contratto di locazione per la nuova sede dell'azienda nel capannone al quartiere San Paolo. Ci sarebbe una clausola infatti che tra le righe vincolerebbe la Multiservizi all'acquisto della struttura entro i primi tre anni. Nel caso in cui l'azienda non usufruisse di questo diritto di prelazione, in presenza di altre richieste provenienti da terzi, tutti fuori entro 180 giorni. Significa che entro tre anni la Multiservizi deve spendere 2 milioni e 650 mila euro per acquistare l'immobile nel quale dovrebbe essere conduttore. Di fatto questo comporterà delle spese per il civico bilancio, a meno che non si decida di lasciare al suo destino la Multiservizi. Non solo lirica, il foyer del teatro Petruzzelli ospiterà a partire dal 20 novembre la mostra dal titolo La poesia della tavola, l'esposizione che va da De Nitti, Sacca Sorati e a cura di Emanuele Angiuli e Dario Matteoni. Questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presenti il presidente della Fondazione Lirico Sinfonica Gianrico Carofiglio e il sovrintendente Massimo Biscardi. E ora passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, le temperature saranno comprese tra i 17 e i 15 gradi, venti moderati e mare poco mosso. In chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochiocciolalsegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.